Dalla robotica all'internet delle cose, passando per sharing economy, startup e smart city. Questi sono solo alcuni dei temi al centro dell'Innovation Week 2016, l'evento organizzato da Edison in collaborazione con Startup Italia, in programma dal 7 al 10 giugno a Milano. Una quattro giorni di dibattito interdisciplinare sui temi dell'innovazione, con oltre 30 diversi panel, più di 50 relatori e decine di giovani startupper. Edison Innovation Week è una maratona di quattro giorni pieni di eventi e dibattiti in cui i maggiori protagonisti del mondo che sta cambiando oggi si confronteranno sui temi di attualità, quindi dalla sharing economy al digitale, allo carbon city, al mondo delle start up. Quattro giorni in cui abbiamo cercato di riflettere su tutto ciò che è intorno a noi e su ciò che sta impattando la vita di tutti i giorni. Quindi dal mondo dell'energia, dal mondo del sociale, dal mondo anche del cinema, dal mondo della robotica, quindi con diversi ospiti che ci parleranno dell'evoluzione anche tecnologica ma anche umana in qualche modo. Quindi quattro giorni in cui Edison si è dimostrata al centro del dibattito sui temi di attualità. Tra le iniziative organizzate nel corso della manifestazione c'è Edison Pulse, il contest dedicato al mondo delle start up, nell'ambito del quale sono stati presentati più di 390 progetti provenienti da tutta Italia. Edison Pulse nasce tre anni fa, è un premio dedicato al mondo delle start up, quindi ai team giovani che vogliono crescere e vogliono realizzare la propria idea. Edison supporta la loro crescita attraverso un premio e un periodo di incubazione dedicato alle migliori start up quest'anno in tre categorie, low carbon city, sharing economy e internet of things. In palio quindi ci saranno 200.000 euro più un periodo di formazione per aiutare le imprese a trovare le migliori modalità di crescita. Nel corso della manifestazione che decreterà i suoi vincitori sabato 10 giugno, i cinque finalisti di ogni categoria hanno potuto far conoscere le loro innovazioni al pubblico e alla giuria durante presentazioni e dibattiti. In particolare mercoledì 8 giugno è stata la volta della categoria low carbon city, che ha visto i finalisti cimentarsi con i settori più disparati. Si va infatti dal carpooling Jojob della start up Bring Me di Gerard Albertengo al sistema Gatsi di Biorenova, illustrato da Enrico De Dominici, scoordinatore del progetto, una soluzione che sfrutta impianti innovativi per il riciclo di rifiuti plastici. E poi ancora i semafori intelligenti in grado di elaborare in maniera smart dati sul traffico, presentati da Giacomo Vallini di Traffic Light, l'algoritmo per misurare l'assorbimento degli inquinanti e la loro presenza negli ambienti, proposta da Agrisù e illustrata da Marco Ivaldi. E infine le soluzioni per efficientare i motori delle biciclette elettriche nelle salite di Bike e Bike, fondata da Matteo Spaggiari.